Sei alla ricerca di personale qualificato per la tua azienda? La nostra Digital Academy Next è il partner giusto per te. Con i percorsi formativi Next specializziamo in modo gratuito giovani talentuosi nel campo del digitale fornendo loro tutte le conoscenze necessarie da mettere subito in pratica nel mondo del lavoro. Con i percorsi di formazione si acquisiranno skills nel marketing digitale, coding, sviluppo web, social media manager e molto altro. Grazie alle nostre esperienze nella formazione di professionisti digitali siamo in grado di offrire alla tua azienda un pool di candidati altamente qualificati pronti a far decollare il tuo business. Ricordiamo inoltre che il percorso di sviluppo professionale inizia con l'orientamento, continua con la formazione e si conclude con lo stage. Ma perché dovresti considerare di ospitare in stage i nostri studenti? I costi di formazione sono pari a zero ed inoltre i talenti appena usciti dalla nostra Digital Academy sono giovani pronti a portare nuove idee e prospettive alla tua azienda contribuendo così all'innovazione. Ma non è finita qui, garantirai alla tua azienda il mantenimento della sua competitività grazie ad un personale qualificato. Ed infine lo stage ti consentirà di verificare le abilità del candidato in modo da poterlo confermare o meno a seguito del periodo di prova. Cosa aspetti? Contattaci subito! Ciao!